Ryanair tenta ancora l'assalto a Erlingus, la prima linea aerea europea a basso costo a offerto per la rivale 1,30 euro per azione. Si tratta di un premio del 38,3%, l'operazione valuta l'intera Erlingus 694 milioni di euro. Ryanair aveva cercato di rilevare Erlingus già nel 2006, la sua offerta era stata però bloccata dalla Commissione europea.